Per il solo evento sono stati programmati in arrivo 65 voli straordinari provenienti da mezza Europa. In più a questi numeri ci sono il pieno del tutto esaurito degli aerei in arrivo valutabili intorno alle 120-130 mila persone ogni giorno dal 22 fino al 29 che è il giorno della partenza. Grazie. 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 Grazie.